Guido e Giorgio, ci fate vedere il risultato del sondaggio? Adesso era curioso di sapere anche a metà come era il sondaggio. Era esattamente a metà. Cioè per molto tempo, sono centinaia e centinaia di telefonate, e molto tempo è stato proprio a metà metà. Vediamo, incerto. Perché noi votavamo uno e l'altro. Uuuuh! Di pochissimo! Vabbè dai, però questa è una non vittoria, dai. Come è una non vittoria? Dai, è una non vittoria. Hai visto che abbiamo fatto bene. 47,7% sì, 47,3% no. E' finito così il sondaggio a ring sul nuovo parcheggio temporaneo sul sedime dell'ex sala Tripkovic, un'area in ghiaia che temporaneamente sarà prestata per gli stalli dedicati allo shopping natalizio. Questo è il risultato, ma nel dibattito politico sono emersi anche altri dettagli e posizioni personali. È evidente che siamo in un periodo natalizio, siamo in un periodo in generale per la città di Trieste che vede l'arrivo di molti turisti e quindi si cerca una soluzione tampone, appunto per qualche mese, proprio per cercare di supportare chi si reca in centro città con la propria autovettura. Ma sul breve termine capisco e rilevo però che da diversi punti di vista questo segnala che sul rispetto a quell'area si è parlato tanto di demolire la sala Tripkovic senza avere un'idea di cosa farci dopo. Dopo è venuta pian pianino un'idea, adesso forse quell'idea sta andando avanti, chi lo sa, nel frattempo intanto facciamo un parcheggio. E 80 posti macchina per il commercio di Natale serve perché sai, qui là sono soldi che la gente va poi a spendere nei negozi. Io credo che andare avanti sempre a soluzioni tampone, è vero che la città è un cantiere, ma stiamo facendo sempre delle soluzioni tampone che riguardano un certo aspetto. Scusa, non arrabbiarti, ma noi stiamo facendo, voi non avete fatto niente. Quindi a onore del vero. E se dopo rimane scrivevi un sms a qualcuno? Se dopo rimane sarebbe grave onestamente, nel senso che... E faranno un altro comitato, loro sono bravissimi per i comitati.